Giko, se vuoi giocare da professionista, non puoi vergognarti di chi sei. Ti devi allenare. Tutto il resto verrà da sé. Devi ispirare i tuoi compagni a credere in loro stessi. Siamo tutti ansiosi di vedere il suo magico stile di gioco. È arrivato il momento di Pelé. Pelé, dal 26 maggio al cinema. In modo delicato. Ok? Oh, piano. Riprova. Di nuovo. Così. Calma. Va bene. Respira. Non impuntarti. Devi divertirti, Giko. Tutto il resto verrà da sé. Tutto il resto verrà da sé. No. Dopto il resto. Pensi che tuo padre volesse fare l'inservietta? Non gli davano un soldo e l'hanno mollato appena si è fatto male al ginocchio. Ehi, quelli non hanno nemmeno le scarpe! Stoppa questa! Gico, se vuoi giocare da professionista, non puoi vergognarti di chi sei. Ti devi allenare. Tutto il resto verrà da sé. Mostraci cosa accade quando hai il coraggio di accettare chi sei veramente. Pelé, dal 26 maggio al cinema. Di generazione in generazione, di padre in figlio, i nostri antenati si sono trasmessi l'arte della ginga. Era il loro modo di ribellarsi ai soprusi della schiavitù. La ginga ha esaltato il ritmo, la forza e la gioia assopita nell'anima del nostro popolo. La ginga è molto forte in te, Gico. Dei, quelli non hanno nemmeno le scarpe! Stoppa questa! Pelé! Gico, se vuoi giocare da professionista, non puoi vergognarti di chi sei. Ti devi allenare. Tutto il resto verrà da sé. Che accidenti era quello? Mi dispiace. Rifallo. Pensi che tuo padre volesse fare l'inserviente? Non gli davano un soldo e l'hanno mollato appena si è fatto male al ginocchio. Lo stile ginga può anche aver funzionato al Santos, ma non potrà mai reggere a livello internazionale. Non so giocare come gli altri. Mostraci cosa accade quando hai il coraggio di accettare chi sei veramente. Si dice che non giochiamo tutti allo stesso modo, ma è per questo che siamo chi siamo. Noi abbiamo una cosa in comune. La gioia è il modo di esprimersi del Brasile. Siamo tutti ansiosi di vedere il suo magico stile di gioco. Vincerò la Coppa del Mondo per il Brasile. Te lo prometto. Attenzione fan di film drammatici, perché il celebre sito Rotten Tomatoes ha stirato la classifica dei 100 migliori film drammatici di tutti i tempi assolutamente da non perdere. Ed ecco la top 5. Al primo posto c'è Quarto Potere del 1941. Al secondo posto c'è Eva contro Eva del 50. Terzo posto Il Padrino del 1972. Scendendo dal podio, quindi al quarto posto, troviamo Metropolis del 1927 e poi seguito da Casablanca del 1942. Siete d'accordo con questa classifica? Voi invece che film drammatici consigliereste? Fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto, proprio qui, se volete vedere altri video. Ciao a tutti! Grazie a tutti!